Preside Venditti, come si pone la sua scuola di fronte al rischio di perdere la presidenza? Diciamo che questo pericolo, da una telefonata appena intercorsa con il presidente Ceparatti, è scongiurato. Rimane però il fatto che il liceo scientifico di Riccia, che esiste con noi oramai da quattro anni, con un'ottima collaborazione con la volontà dei professori e degli alunni di stare insieme a noi, ci viene tolto. Ho capito che manteniamo la dirigenza, ma ci sono anche programmazioni, progetti in atto, che sono destinati a morire. E questo ci dispiace sinceramente. Essere interpellati, siamo un ente anche noi, un ente che fa cultura. Si discute di cultura e si fanno le decisioni sopra di noi senza mai chiederci nessun parere. E mi sembra anche inopportuno che ci convocano in sala consigliare della provincia per decidere cose che decidono poi i politici. Nella fase interlocutoria non ci si chiede il parere, nella fase decisoria andiamo lì ad assistere.